Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, continua a collezionare figuracce, soprattutto anche mettendo in evidenza storie inventate. Il non-uncomizzo che si è tenuto lo scorso weekend ha fatto riferimento a un presunto attentato terroristico in Svezia venerdì scorso. Un attacco che però non è mai avvenuto. Gli svedesi, dopo aver ascoltato con Ilaritas, sono mossi a livello di ambasciata svedese che a Washington ha fatto sapere di aver chiesto ufficialmente spiegazioni al Dipartimento di Stato. Nonostante la brutta figura Trump si è dipeso dicendo di fare riferimento a una storia trasmessa da Fox News, la sua rete televisiva preferita, preferisce soltanto quella e gli altri la odia, riguardante gli immigrati e la Svezia. Intanto è attesa di capire il nuovo bando vissa sui musulmani e la stretta sugli immigrati con espulsioni accelerate. Mimmo Sena, Speciale News.